Si è svolto sabato scorso a Vittorio un'operazione di verifica effettuata al mercatino settimanale dopo l'incontro tra l'amministrazione comunale rappresentata al sindaco Muscato, l'assessore alla polizia La Rosa con le associazioni di categoria. Durante il vertice si era stato chiesto un maggiore rispetto dell'ambiente del sito agli esercenti e rispetto alla settimana precedente, sottolinea lo stesso La Rosa, i riscontri sono stati molto positivi col sito che è rimasto pulito dopo che gli ambulanti erano andati via. E' tutto questo frutto dell'ottima collaborazione che si è venuta a instaurare tra le parti in causa. La polizia locale è quindi vigilata e verificata, abbiamo diffuso, continua La Rosa, che all'osilo dell'azienda di igiene urbana un volantino che sensibilizzava gli operatori al rispetto delle regole, ma anche le associazioni di categoria hanno svolto sino in fondo il proprio compito. Siamo dunque riusciti nell'intento che era quello di fare in modo che le regole potessero essere rispettate, assicurando piena pulizia dell'intera aria. Ovviamente un arrondire non fa primavera, prosegue l'assessore, e torneremo quindi a verificare e controllare già in occasione delle prossime giornate di marcato la stade assolutamente giusta per normalizzare una situazione e fare in modo che Vittoria possa sempre più diventare una città che fa del rispetto delle regole il proprio punto di riferimento. Inoltre, conclude La Rosa, attueremo verifiche ancora più stingenti, così come concordato con l'assessore Zordi, per contrastare l'abusivismo commerciale, una piaga che intacchi il lavoro degli operatori in regola. Grazie. 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 Grazie.